Non solo droga, controllo del territorio e delle attività produttive locali. Ora l'Andrangheta ha alzato il tiro e ha messo le mani sul settore dell'armamento ferroviario nazionale. A scoprirlo la Guardia di Finanza di Milano, che ha proceduto al sequestro preventivo per oltre 10 milioni di euro nei confronti di 11 società operanti in proprio in questo settore. Nel 2022 i nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Varese, Milano e Verona avevano arrestato 15 persone, poi condannate in primo grado, facenti parte del medesimo contesto associativo, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrato 6 milioni e mezzo di euro. Da quell'operazione era emerso come un gruppo di soggetti contigui a l'Ancosca di Andrangheta denominato Nicoscia Arena di Isola Caporizzuto, attraverso contratti di distacco di mano d'opera e contratti di nolo a freddo dei mezzi, abbia effettuato per anni attività di manutenzione della rete ferroviaria italiana attraverso un fitto sistema di aziende pseudo-metal mechanic, a loro riconducibili, con sedi a Varese, Verona e Crotone, molte delle quali intestate a prestanome, di fatto prive di struttura aziendale, aventi quale scopo unico la somministrazione di mano d'opera alle 11 imprese a segnatare delle ingenti commesse da parte della principale stazione appaltante d'Italia, Reti Ferroviaria Italiana S.P.A. Le ultime indagini hanno quindi consentito di costruire un giro di fatture false emesse da queste società cartiera, copertura dei contratti di somministrazione di mano d'opera specializzata e noleggio mezzi, il tutto per eludere la normativa antimafia e le limitazioni in materia di subappalto di commesse pubbliche, accertando quindi un'evasione di imposta di IVA e di IRS per oltre 10 milioni di euro.